Allora, attivazione tecnico-tattica nella ritmo allungata. Faremo tre varianti, lavoreremo prima in un senso, poi nell'altro, è una sequenza di otto passaggi, ora facciamo un senso anti-orario. A destra, lungo corto di Marco, uomo, giocare, sta, la scarica, Nicola, con i tempi giusti, si abbassa, Marco, voglio curatevi il movimento qua, Marco come l'ha scaricata si tira prima fuori, poi va sotto a Nicola. Come gli attiva, Matteo, Donaluzio, lato palla, giocata verticale, Nicola, gli stai vedendo due, palla fissante a Luigi. Curate qua il movimento dell'esterno, qui ti abbassi con la palla, mi abbasso e la vado a prendere bene. Buongiorno, bene, bene! Pronti? Fatte! Arrivati a posizione iniziale qua, andiamo del centro. Hop! Sa! Sa! Anche! Sa! Si cala, torri di go! Uno, due, tocca da dentro! Ra! Mai, vai! No! 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 Bora! Vai, 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 vai promoter! vado verticale curiamo i tempi abbassati bene nico dai si vede tutto eh si misce però un po' lontano dai 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 forza 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 per i tempi giusti per i tempi per i tempi per i tempi Ora Marco sta qua, prende visione, si sbarca, Emanuele gli dà palla e gli dice solo, si apre con il suo movimento di gola, si abbatta, si corre il contro, uno, due, come si va qua. Giocata, inbucata, forte per lui, tu corri, si vai a chiudere uno, due, come si va qua, miseraziamo, vai! Grazie a tutti! Senta, uno, mandalo, vai, solo, uno, due, Gigi, forte Marco, vai! Senta, uno, due, come si va qua, misericordia, si va qua, misericordia, si va qua, misericordia, si va qua. Senta, uno, due, come si va qua, misericordia, si va qua, misericordia, si va qua, misericordia, si va qua, misericordia, si va qua. Porta, 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 porta! Vai, vai! Dai! Mi sento sempre a mettermi il giubbino, si va qua. Mi sento sempre a mettermi il giubbino, si va qua. Allora, ultima variante. Allora, senso sempre di un'avanzia orale. Di nuovo come primo, fa contro movimento, Marco, scarica la palla. Sta, no, come ha scaricato, resta qua. Mi donna, vai, donna luce. Vai! Marco, se da qua, come è scaricato, per intromissione, mi stacco. scanga, coca, vai, donna luce, mi da, non li dieci, no, non li dieci. Qua fe... Basta! Cosa? Qua fe... Vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.